Lunedì prossimo, 8 dicembre, la Chiesa celebra la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. In tale occasione il Cardinale Carlo Caffarra celebrerà la Messa Solenne alle 11.30 nella Basilica di San Petronio. Nel pomeriggio, invece, alle 16, la tradizionale fiorita alla colonna con la statua dell'Immacolata di Piazza Malpighi. Seguirà l'omaggio floreale alla Vergine da parte dei Vigili del Fuoco, delle Associazioni Cattoliche e degli Enti Cittadini. Seguirà nella Basilica di San Francesco il canto dei Secondi Vespri. Nella sua lettera d'invito ai bolognesi, il Cardinale ha ricordato come nella persona di Maria noi possiamo contemplare l'umanità pienamente reintegrata nella sua originale dignità. Ella diventa dunque segno sicuro di speranza per il nostro cammino, fattosi oggi particolarmente faticoso e incerto.